Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi sabato 7 luglio. Vediamo di essere sintetici per quello che avviene oggi. Vi dico subito che i temi fondamentali sono temi giudiziari, cioè che vedono in qualche modo coinvolti i magistrati. Tre sono i temi fondamentali, due da prima pagina, uno purtroppo non da prima pagina ma che ha un grandissimo valore e che riguarda un signore che è arrestato da varie settimane che si chiama Parnasi ed è la storia dello stadio di Roma. Andiamo per ordine. La prima questione è un arresto nei confronti del governatore della Basilicata, Pittella. Peraltro mi sembra di averlo avuto ospite anch'io in studio a Matrix. Secondo i verbali della Guardia di Finanza e dei magistrati di Macerata che lo hanno arrestato sarebbe stato il deus ex machina di una serie di raccomandazioni per le due sole asl della Basilicata in cui lui avrebbe raccomandato, sottolineandolo in verde, i suoi favoriti. Uno di questi sarebbe stato un certo fruscio della corrente di Emiliano e sua, evidentemente. venivano intercettati e l'altra questione grave che avviene in questa inchiesta, che ovviamente bisognerà tutta quanta certificare con delle sentenze, c'è la presunzione di innocenza buongiorno Rita che vale per tutti quanti, o di non colpevolezza, beh, insomma, ci sarebbe stata anche una fuga di notizie per cui i magistrati avrebbero avuto qualcuno che ha spifferato che stavano intercettando tutto questo giro sulla nomine sanitarie. È molto divertente quando si parla di sanità che tutti quanti i governi, destra, sinistra e centro, dicono fuori la politica della sanità. Poi alla fine non si riesce mai a farlo. Scusate, mi ho detto Macerata, Carolina, scusami Matera, ma pensa tu come sono messo Macerata, non c'entra niente. È la procura di Matera, sono un cretino. Va bene, andiamo avanti. Sulla questione di Pittella, poi i giornali la mettono come gli pare. Per esempio il giornale di Belpietro dice altra bomba al Renzismo, poi se va a vedere dentro c'è tutta la sinistra e non solo della Basilicata. Insomma, quello che staremo a vedere nelle prossime settimane è questo intreccio veramente perverso tra nomine all'interno della sanità e politica, che è un classico, già visto milioni di volte. Seconda questione giudiziaria, viene Scarcerato Dell'Utri. Questo è il titolo del Corriere della Sera. E il titolo è Scarcerato Dell'Utri, lui non voleva la grazia. Allora, questo è un titolo tricky, un titolo dello stracavolo, perché siccome tutti quanti ormai sono stati abituati a odiare Dell'Utri, perché viene definito un mafioso, mentre non è un mafioso anche per la sentenza non è un mafioso, perché una cosa è mafioso e una cosa è concorso esterno in associazione mafiosa. Quindi lui non è mai stato definito un mafioso, lui non è un mafioso. Tecnicamente lui avrebbe, secondo le sentenze, collaborato con alcuni mafiosi senza essere associato alla mafia. Questo è il senso di questo reato, senza senso, che non esiste nel nostro codice. Ma il punto fondamentale che non vi spiegano, e ve lo dico subito perché voi al bar lo possiate dire, e che non si capisce bene leggendo soltanto i titoli dei giornali, che non hanno scarcerato Dell'Utri perché sta male. Gli hanno semplicemente detto che potrà curarsi e verrà differita la pena. È chiaro? Quindi lui che cosa fa? Adesso si curerà il tumore, rischierà la prostata per cui è stato diagnosticato a luglio dell'anno scorso, o un anno senza che lui si sia potuto curare come avrebbe voluto. Ha un rischio di infarto, non volevano che morisse in carcere, evidentemente e normalmente, come per altri avviene. Lo hanno scarcerato, si potrà curare questo tumore e poi ritornerà in carcere. Quindi non è una scarcerazione to cure, è un differimento della pena, soltanto perché voi lo possiate dire ai vostri amichetti quando vi diranno che il fondatore di Forza Italia gode di un particolare privilegio nell'essere scarcerato. Gode di un particolare maleficio nella sua conduzione carceraria. Come Parnasi? Parnasi, ragazzi, è stato arrestato ed è ancora arrestato, nonostante, stiamo parlando che non nel caso di Dell'Utri è stato condannato, c'è una sentenza e quindi si fa il suo carcere secondo la sentenza che potete più o meno apprezzare, ma comunque c'è una sentenza. Parnasi non c'è neanche una sentenza e i PM, cioè l'accusa, hanno detto scarceratelo e il GIP che in genere è quello che dovrebbe avere una parte terza nei confronti dei PM, per un cacchio di caso, l'unica volta il GIP che dice no, Mattiello è in carcere, ma no, non ha parlato, ha solo ammesso quello che non poteva non ammettere. Cioè il carcere preventivo come tortura, per farlo parlare, non sta scritto nel nostro codice, non si utilizza il carcere per questo. Il carcere si utilizza perché puoi scappare, perché puoi inquinare le prove, per tanti altri motivi, tre motivi, ma non perché tu non ti sei pentito, non è un moralista il nostro GIP. E poi mi fa veramente sorridere come i GIP tutte le volte si adeguano a quello che dicono i PM tranne che per tenere in carcere le persone. Io lo trovo una barbarie giudiziaria. Nel frattempo i fenomeni della Lega dicono abolire le correnti di sinistra, lo dice il sottosegretario della giustizia, abolire le correnti di sinistra della magistratura. Ecco, un sottosegretario, forse, Marrone, alla giustizia, dire abolire le correnti di sinistra, che a me fanno ribrezzo, ma che sono neanche le correnti più, sia chiaro, garantiste teoricamente, beh, insomma, a me mi sembra una roba un po' incredibile. Di Maio con la Lega, no agli interessi delle correnti, e sostiene Marrone, secondo i titoli dei giornali, insomma, c'è una grande pasticcio sulla questione giudiziaria. Fantastico, adesso c'è una piccola... Vabbè, lasciamola perdere. Quindi sulla giustizia direi che più o meno è questo. Vespa si accorge sul quotidiano nazionale che il decreto dignità è una sbandata a sinistra. Benvenuto, caro direttore Vespa, in quello che da circa 20 giorni scrivono tutti quanti i giornali. Oggi ce lo spiega anche Vespa sul quotidiano nazionale. Potete anche evitare di leggerlo, ve l'ho riassunto io. L'avete già letto in tutte le salse. Oggi un altro esercizio che è fantastico. Chi diventerà il direttore generale del Ministero del Tesoro, posto chiave che deve scegliere Tria. Ogni giorno cambiano idea. Ieri era sui giornali questo Guglielmi della Mediobanca Securities, un banchiere che era molto strano che potesse fare il direttore generale del Tesoro, perché funziona così. Tu prima fai il direttore generale del Tesoro e poi diventi banchiere e fai un sacco di soldi. Ma uno che ha fatto un sacco di soldi e che arrivi a diventare direttore generale del Tesoro in piena carriera è molto difficile. Ma può anche darsi. Comunque oggi il candidato è un altro. Molto, ma molto bella e interessante sarebbe la prima pagina, in realtà è pagina 30, penso, del Corriere della Sera, e l'intervista a Carlo Noseda, che è uno di quelli che si occupa della pubblicità nel mondo digitale. Perché è molto interessante questa intervista? Perché Carlo Noseda ci fa capire una roba che ancora, mentre stiamo parlando di Pittella, delle ASL, dei magistrati, del decreto dignità, di quella minchiata del decreto dignità che sembra che voglia fermare il precariato, in realtà ferma il mondo, ci spiega una cosa molto semplice. Sapete che sta succedendo nel mondo? Che in Italia ci sono 2 miliardi di euro di pubblicità digitale che sono fatte da due monopolisti che si chiamano Google e Facebook. E questi 2 miliardi di pubblicità sono fatti con 250 persone, 250 persone, 2 miliardi di pubblicità. Tutto il resto del mondo della pubblicità sta morendo. Tradizionali, televisioni, diciamo no ancora, ma insomma è soltanto una questione di tempo. Quindi quello che dice Noseda è ragazzi mettiamoci almeno intorno a un tavolo a capire che succede, dove va il mondo. La pubblicità, quella che voi non volete sui giochi, oggi ne parlo sul giornale, quella che voi pensate stia crollando nella carta stampata, quella per cui siete lì aggrappati e fate le ipocrite battaglie come quella sui copyright che è stata fatta in sede europea nei giorni scorsi, non vogliamo vincoli a libertà di stampa. Insomma, forse è giocata su questi numeri che Noseda spiega molto bene oggi in una intervista breve e molto leggibile sul Corriere della Sera che vi consiglio di leggere. Ricolfi, molto buono come sempre, io lo adoro oggi sul Messaggero, ci dice la paura sia, la paura diciamo, è alimentata dalla propaganda della destra, becera, sui, sulla, si alimenta la paura, si fa sì che ci sia paura degli immigrati, dei diversi da noi, insomma è un racconto, quello della paura che è alimentato dai Salvini, dai Di Maio, da questi cattivoni che in questa maniera alimentano la paura e poi si portano i voti a casa. È una specie di vulgata che per esempio è sintetizzata da quella, di quella, da quella, insomma, come possiamo definirlo? Un direttore di un giornale che dice che ha le firme di un appello della Mannoia e di Mentana e poi Mannoia e Mentana dicono che quelle firme non gli hanno dato. Un po' truffaldino, ecco direi un po' truffaldino, di Coppola, che era il braccio destro del conte Mascetti, cioè l'amministratore delegato della RAI scelto da Renzi, cioè Coppola e il conte Mascetti erano quelli che facevano la televisione pubblica. Finita quella orrenda stagione di televisione pubblica, Coppola fa il direttore di Rolling Stones e da direttore di Rolling Stones dice che l'Italia ha bisogno di liberarsi di Salvini che è una specie di disastro e chi non parla è complice e fa parlare Mentana e Fiorello che firmano questo appello e poi Fiorello e Mentana, Fiorella e Mantana che poi insomma non amano certamente Salvini dicono guardate che noi questo appello non l'abbiamo firmato, ce l'ha pure chiesto, abbiamo detto di no, insomma piuttosto scorretto utilizzare i nostri nomi dicono. Vabbè, chiusa questa parentesi Ricolfi dice questa paura, questo alimento della paura deriva veramente dalla propaganda di Salvini, dice beh un po' di propaganda c'è sicuramente, ma dice non abbiamo dato l'impressione noi negli anni precedenti di difendere i cittadini italiani, quando entri in America ti rompono le balle alla dogana, certo che non cambia nulla perché passano dal Messico in un certo via aereo, ma ti dà il senso che c'è una polizia che difende i cittadini italiani, insomma, poi dice c'è una cultura oggi della sicurezza che va dalla pulizia dei denti allo smog, per cui non si riesce a capire perché quella cultura della sicurezza non vaga anche per l'immigrazione. Molto interessante come sempre, molto intelligente quello che scrive secondo me Ricolfi. Che altro abbiamo messo? Basilicata ne abbiamo parlato, Dell'Utri sono molto contento che il Tribunale di Sorveglianza gli abbia dato la libertà per curarsi, beh poi c'è oggi se volete approfondire sul giornale la questione di quota 100, cioè di quanto, di chi andrà in pensione con quota 100 che vuol dire se la riforma che vuole proporre questo governo 64 anni di vecchiaia e 36 di anzianità sommati fanno 100 oppure 41,5 anni di contributi dice ma chi è che andrà in pensione con questa riforma? Beh, è un processo detto che secondo il messaggero costerà 10-11 miliardi i dipendenti pubblici perché in Italia chi ha oggi un lavoro fisso, continuativo con una storia contributiva pulita da 36 anni a 64 anni? I dipendenti pubblici. perfetto andiamo avanti così pensiamo che noi dobbiamo fare una riforma delle pensioni per che di cui godranno in massima parte i dipendenti pubblici contro i quali io non ho nulla assolutamente nulla ma è bene che le cose si dicano come stanno Istat certifica il ralentamento dell'economia italiana questo è l'altro tema su cui ovviamente l'anno prossimo ci affronteremo i numeri veri io vi do un grande saluto un abbraccio a tutti quanti voi buona domenica per domani oggi divertitevi andate al mare e se potete che vi posso dire che fate oggi leggetevi Ortega i Gasset oppure l'intervista di Noseda Ciao